Il grande progetto Sarno riguarda il fiume Sarno che scorre, parte da Solofra e arriva a Torre Annunziata e non è il Sele che scorre in una zona ben diversa della provincia di Salerno. La regione ha il via libera dal Consiglio di Stato da giugno 2014, noi ricordiamo che abbiamo bloccato il progetto semplicemente per tre mesi, la regione ha avuto otto anni di tempo per realizzare il progetto e ancora oggi non si vede nessun tipo di opera tra le quali le fondamentali che noi riteniamo opportuno da fare subito, dragaggio e messa in sicurezza degli algini. Poi parliamo di vasche, la questione delle vasche è una questione ambientale dalla quale ci siamo appellati al Tarre per la quale andremo al Consiglio di Stato.